Platanieri 29 pagine poi ve le leggerete negli atti del convegno così riguadagniamo il tempo perso oggi il suo intervento era sul ruolo della chiesa in polonia nell'età moderna per la sua difficile situazione geopolitica e una serie di diversi altri fattori la polonia fu sempre cara alla chiesa di roma e oggetto del suo particolare interessamento contatti che coincidono con gli albori della storia polacca si sono andati non di meno permeando di elementi comuni le radici di tale legame si individuano nel matrimonio del duca Mieslo con la principessa cieca Dobrava e alla conseguente conversione del sovrano al cristianesimo nel 966 testimonianza di questo essenziale atto per la storia polacca è il documento d'Agome iudex redatto verso il 990 che contiene l'atto di donazione a San Pietro di un vasto territorio da parte del duca questo riferimento politico religioso assume una valenza maggiore nella misura in cui diviene una testimonianza certa laddove è assai difficile poter stabilire la nascita politica ed istituzionale della Polonia mancando come è noto l'apparato documentario scritto che consentirebbe di ricostruire le fasi storiche del regno numerosi gli interscambi determinatisi successivamente tra la Polonia e l'Italia benedettini italiani che si recarono in Polonia e studenti polacchi che visitarono l'università di Bologna e Padova il massimo splendore del cattolicesimo polacco si raggiunse nel XVI secolo momento in cui vennero anche superate le infiltrazioni uscite e si registrò nel paese un gran numero di santi tuttavia ciò non impedì la divulgazione del protestantissimo la linea di tolleranza religiosa sembrò prevalere allorché il re Sigismondo Augusto 1520-1572 si pose in aperto contrasto con la Chiesa di Roma richiedendo l'annullamento del primo matrimonio per sposare una calvinista e minacciando di passare al protestantissimo è significativo che le forze cattoliche riunite intorno alla figura del cardinale Stanislao Osio siano riusciti a rovesciare la situazione e a far accettare i decreti tridentini al re con la forte presenza gesuitica a partire dalla seconda metà del Cinquecento si infittirono le attività controrifornistiche nel paese ciò nonostante le strutture della Chiesa apparivano meno sviluppate in Polonia che non in altri paesi europei a partire dalla fine del XVI secolo si osserva in Polonia un intenso fiorire della vita religiosa che si manterrà fino all'ultimo quarto del secolo XVIII Giovanni Sobieschi collaborò con la Santa Sede mentre Augusto II, elettore di Sassogna che si convertì al XIV proprio per salire al trono di Polonia non si allineò sempre con Roma questi non aveva svolto in effetti una grande opera di conciliazione con la gerarchia cattolica del Regno ne aveva tentata alcuna mediazione con Pietro il Grande per la salvaguardia degli interessi dei polacchi ugnati cattolici di rito greco residente nei territori passati sotto la Russia che erano oggetto di violente persecuzioni da parte dello Zara nel periodo delle spartizioni a partire dal 1772 l'esigenza di una rinascita politica si andava identificando con quella di una rinascita religiosa nella quale la Chiesa polacca assunse un ruolo di sostegno essenziale proprio nel cosiddetto Regno del Congresso con Parlamento ed esercito proprio unita alla corona imperiale zarista l'opposizione nazionale polacca aveva nella Chiesa cattolica il proprio punto di riferimento all'iniziale tolleranza da parte del governo fece seguito un progressivo inasprirsi della situazione tanto da assumere più tardi al tempo delle rivoluzioni colori tragici ma l'unità religiosa della Polonia non poté tuttavia essere smembrata la Chiesa polacca fu nuovamente riunificata parallelamente al processo di riunificazione del paese nel 1918 la nuova posizione dello Stato venne sottolineata con le Costituzioni del 1921 e 1935 e con il Concordato del 1925 durante la Seconda Guerra Mondiale la Chiesa polacca fu sotto lo stretto controllo delle autorità tedesche dato che il Cler appoggiava il governo in esilio il Vaticano da parte sua accettò la situazione di fatto e tra il 1941 e il 1942 nominò amministratori apostolici speciali per le diocesi prevalentemente abitate da tedeschi o rispettivamente da polacchi il che equivaleva a una divisione della Chiesa di quelle regioni secondo criteri etnici due fattori di natura giuridica caratterizzano la Chiesa polacca nel dopoguerra la denuncia del Concordato da parte del governo provvisorio nel 1945 e l'accordo con l'Episcolato polacco nel 1950 tale accordo sembrava contemperare esigenze della Chiesa ed esigenze dello Stato pur se formulate in taluna e sue parti in maniera non propriamente cristallina in tale posizione la Chiesa poteva svolgere in Polonia negli ultimi anni la ben nota funzione di tramite tra il vecchio e il nuovo finito il riassunto e siete risparmiati di tutto il resto grazie grazie Grazie.